SILENZIATO Non so che cacchio fare Non so come sarà quest'arma Quindi speriamo che sia un'arma buona Non so neanche adesso sinceramente No qua non la trovo Sennò ve la faccio vedere subito Signori comunque mi raccomando un bel like Siamo prontissimi ad andare a giocare questa partita Speriamo ovviamente di portarci alla casa Oppure di cercare di fare una bella partita come si deve Raga mi butto verso parco pacifico Ma non so quante persone ci stanno Ok io ne vedo solamente uno Mi sembra strano però Eh infatti sembrava un po' troppo strano sta cosa Ok Ho dovuto fare per forza così Perché se no questo Se me fotteva qualche arma era finita Invece così non gli do manco il tempo Di respirare praticamente Ok vedi non va di andare qua Perché c'è stato tutto C'è stato dei fucili qua Ok Ok Johnny Allora facciamo così Ehm Prendiamoci il rampino Perfetto Ripendo il FAMAS Allora facciamo così Ta ta E ta E ta Perfetto Aspetta qua forse ci potrebbe sta qualcosa No non c'è niente Raga Non c'è niente qua Vabbè Andiamo più avanti Lasciamoci i materiali Se no poi rimaniamo fregati Però dai fortanet Tu fammi trovare quel benedetto Scar Silenziato eh Almeno a provarlo Perché mi sembra Sparare due colpi Non dico tanto Tu Ta ta Ma sono contento lo stesso io Da qua me lo sento E mo lo sento Malissimo Ma proprio male 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 Mo lo sento E dai E dai E che cazzo Non è silenziato però Cioè sto trovando un sacco Di scarre Ma non sono silenziati Non ho mai trovato Così tanti scarre In vita via Mamba Ancora stiamo in safe Dai che lo troviamo qua Dai che lo troviamo qua Dai che lo troviamo qua Facciamo piazza pulita Minchia quello comunque Voraccio ha aperto la porta Gli è arrivata una trambata raga Porca mi ho preso Paro paro 857 Va bene tutto quello che te pare Ma mi servono gli scudi Io senza scudi Faccio a casa qua Abbiamo colpo Sono morto Cos'è che vuol dire Abbiamo colpo Sono morto Tu lo faccio vedere tra poco Niente Non ne vuole sapere proprio Di darmi Qualche il colpo Bombo fa pian colpo Però guarda qualcuno In testa paro paro Dai scildini E che cazzo Guarda che mi stai date tutto Però Mi stai da Il loot è perfetto Ma senza scudi E' quello il problema E' il loot è perfetto Ma senza scudi Quale è un famas Niente scudo Dai non c'è Certo regalo Dentro una Ah ok Stavo a dire in caccia Non è possibile Dentro una casa Non c'è sta Un shieldino O qualsiasi tipo di cosa Non è possibile Vabbè che a me Mi dice una jella Incredibile però E dammelo E niente Non me lo vuole dare Raga Niente Niente scaracca Silenziato Mannaglia Langa Tu porco Io qua Sto quasi Quenfo Qui mi salutavo Tutto parco pacifico Tutto Ho salutato tutto Ragazzi E non ho trovato Lo scaracca Quello Silenziato Ho trovato tutti Scaracca Niente Ok Si chiude la safe Ma meno male Che almeno abbiamo trovato Più di 10 shieldini Un botto Però abbiamo trovato anche Comunque Lo slurp Che quello Ben o male Ci ha seguito tantissimo Quindi buono così Cazzo faccio fanco del legno Che tanto ho finito Qualcuno mi ha fottuto Ha fottuto Ha fottuto Ha fottuto Ha fottuto Ah no Se ne sta a andare Pensavo stava andando Qua sopra Invece ci ha fregato Se ne è proprio andato Andiamoci giù di sotto La nostra bellissima Jump arena Perché tanto Sassure E mo faccio Una fine De quelle Brutte Ma brutte Me brutte In un modo incredibile Che stiamo andando Verso pinnacoli E a me non mi piace Pi' niente Andare verso pinnacoli Aha Oh Ok Va fan tuo culo Va fan tuo culo Questo sta guenfo Ma questo Ho un ammazzino Una cira Questi regà Questo ho un ammazzino In botto Perché è pieno di roba Ma quanta roba c'hai Ma che sei Madonna È strapieno di roba Questo Che troppo Non lo lascia Quelle date sotto Alla mo casca l'eardrop C'è mo Cascata una cifra Vabbè no Non faccio tempo A prendere l'eardrop Siamo in otto Raga Siamo in otto Io qua c'ho questa Che la posso prendere Quando voglio Aspettiamo questi Trenta secondi E poi Ce ne andiamo Qui pure hanno fatto Un bel fight Però ancora non vedo nessuno Si sta chiudendo pure la safe Lì c'è parecchia costruzione Ecco là uno Ok uno là l'ho visto raga Eh andiamo a che no Allora c'è quello là Ok Mo sono curato malissimo Questo raga Non è silenziato Manco questo Non ce credo Non è silenziato Neanche quello Ok Mamma mia Non è silenziato Non è silenziato ho pesato il volo raga ok ok raga mi metto un attimo qua non c'è credo oh quello si è iniziato bonnie 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 ahio cortecci tua vai vai ci tua vai e vai boom baby vai così raga vai così signori che partita fino all'ultimo rischiavo tantissimo era bravino raga volevo fare l'ultima kill con lo scarl quello silenziato ammazza però quanto è tosto raga mi sa che fa veramente tanto male peccato volevo fare l'ultima kill con quello però a me non l'abbiamo provato fino all'ultimo signori questo video è già a termine spero ovviamente vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollice in su commentate condividete passate a facebook e instagram tra il link in descrizione vi invito a passare qua fianco a me ragazzi per vedere altri due video 78 ancora non l'avete visto mi raccomando passateci cliccate il link in la gkpr per iscrivervi al canale e cliccate ovviamente sulla campanella per non perdervi nessun video noi ci vediamo con un prossimo puntamento ciao ragazzoli